Signori, oggi andremo a vedere nuovamente la persona più aggressiva all'interno di Rainbow Six Siege da console Cioè, boi la 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 la, con un titolo molto interessante Cosa 30.000 ore sul controller fanno su Rainbow Six Siege Ragazzi, c'hanno tutti 30.000 ore di gioco, tranne io, cioè sul controller tranne io, io non c'ho un cavo, io c'ho 30 ore appunto Loro c'hanno 30.000 ore Qui, ovviamente, vediamo ragazzi cosa lui si è classificato nell'ultima season, ottavo con 1.8 di KD, 7.1 di Ranked Win Loss GG's per lui E let's go È l'unico, ragazzi, di tutti quelli che reagisco, è l'unico, boi lol, che mi scrive sotto i video suoi, nei commenti È l'unico, raga Allora, Vigil Va bene, ha appena distrutto uno Era l'antennista Quello era il panettiere, invece Vediamo se ammazza il gelataio È il gelataio, si è dato Lo stilista? Ci sarà lo stilista anche? Eh sì, è lì lo stilista, ragazzi Eh, lo stilista è forte, però Eh? Tanta roba Ok, è stato catturato Shiny Lo stilista Shiny, catturato Allora, Yana sulla nuova mappa Consolata Stiamo a fare le porcate Quello si chiama Pizza Time Interessante Come pushano, ragazzi Come pushano Che gli ha preso, tipo... Ah, ma è lui che si chiama Pizza Time Ma si chiama lui Pizza Time Non ci credo Ah Lol Ma dove l'ha preso, raga? Ma ha sparato al bidone, lì E questo l'ho anche preso, eh Lui sa Che ne uscirà uno da là Lo sa Come lo sa? Non lo so, però lo so Ma come cacchio fai a saperlo? Ma io, porco, porcaccio, porco Insomma Vabbè ragazzi, comunque è Neo Cioè, non lo prendono Porco due, cioè, non prende un proiettile Vi devia Non l'aveva mai preso Avevo detto ragazzi che è Neo Raga, non prende... Non prende... Non viene il tato, cioè Non è che... Voi giocate così su console? Cioè, voi siete psicopatici come lui? Guardatelo! Vabbè ragazzi, cioè Peggio di Bowlo, credo Se quello usa cose strane Vabbè peggio, eh Fortissimo E lui gioca così da console Peccatevi questo contro Peccatevi lui contro Che porco due State ancora mettendo il secondo gadget difensivo Che questo già è in sight In wallbang così è impazzito Guardate come push, raga Non gliene frega niente C'ha una mira assurda C'ho due porco Porco C'ho due Te lo ritrovi mentre fai la rotation Ma sicuro Eeeh Alla chi Bel pic quello se chiudi la porta Ma guarda qua raga Lui drona C'ha una sicurezza Ha una sicurezza Non prende mai i colpi raga Io veramente penso sia Neo Penso che lui potrebbe fare il nuovo Matrix Con un colpo l'ha ammazzata Ragazzi diventerò mai Così prima o poi Che dite chat Che dite Riuscirò anch'io a essere così bravo chat Credete in me Potrei Magari fra sette anni Se non finisci il primo gioco Potrei Ma che cacchio è Minchia una flash Quello era il nuovo pezzo Di Yankee Tondara 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 Ah perché è Solis ovviamente Ma mi sa che è sopra Solis Con le mozzi E mi sa che pure è sopra Solis No era giù Era su Era su Quel mira ragazzi Fa veramente cagare E fa veramente cagare Quel mira Ma come cagare Ma come cagare Ragazzi Come fa Come fa Io mi sa veramente Mi sa che voleva run out Vabbè Quello è un bidone Ok Qua possiamo ammettere Che quello lì Era un bidone Ma fatta Non uscirlo Che culo Ma vado Scusate vi faccio vedere la kill Ho fatto il coglione Un attimo Non vi fate della kill Magari vi è incazzato Ok Questa è la kill La faccio rivedere Ah Una kill semplice Cioè Potremmo pure saltarlo Ok Ottimo Ottimo Dejenselos Dejenselos La verga La verga Run out C'è il nomad Infatti Pizza 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 Ya 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 Matalo pizza Il mitico pizza Time Porco 2 Som Fatto 20 kill Si Guarda Sta giocando a COD Tra poco Chiama La bomba nucleare La nuke E lì guarda Quasi C'ha 13 UAV Che deve ancora attivare Quello è Ace Con lui che doveva briciare Signori Perché lo fa Perché lo fa Cosa 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 è molto awkward Quella Quel C4 Ammettiamolo Ammettiamolo Yana Yana Madonna Raga Se l'è rischiata Madonna Ragazzi Se l'è rischiata Si è levato 60 70 HP Stavo uccidendo Preferendo Uuuh C'era la segnalatina Meno male Distrutt Annichidito Eh ragazzi Ma questo qua Vabbè Ogni tanto ragazzi Impazzisce Sardiamo Quei che da console Che ogni tanto Impazziscono Me l'usi Mierda Mi sa che quello E' un po' Fottuto Eh Sto salvando Il capitano No no Quello Sponchi No Lui push Guardate come push No Ah no Lo ti bagga Ho capito Io non capisco Non capisco Ragazzi Come faccio Ma No vabbè Ragazzi No vabbè Cioè ma Chat avete capito Come sta pushando Questo ancora Deve rinforzare Chat No vabbè Cioè quello ancora Poverino Stava rinforzando Guardate là No vabbè Allora Stronzi pure loro Eh Stronzi pure loro Ragazzi che Lo hanno lasciato Diciamo Col Col bridge soft Ok Però Porco due Cioè Insomma Ragazzi Questo era boe Lol Lìo Lìo